bella a tutti ragazzi siamo il team del 287 direttamente per voi ben ritrovati tutti assieme esatto nuovo scenario perché siamo sempre a casa mia qua comunque però abbiamo cambiato l'impostazione adesso siamo in salotto perché vogliamo darci vedete il divano di pelle esatto vogliamo darci il casting vogliamo sotto quelle candidature brothers vogliamo trattarci bene esattamente e poi ci si vede tutti e tre la cosa migliore allora di cosa parliamo allora l'aroma miss italia esatto che brutta cosa l'avete visto questo argomento vogliamo parlare si volevamo parlare del nostro canale che come avrete visto è un attimo fermo esattamente esattamente perché perché stiamo aprendo non è vero perché la cia ci ha scoperto esatto abbiamo preso una minaccia la cia ci ha chiuso l'account siamo per via legali e il ban mondiale che abbiamo preso ecco ora c'è la cia la cia è sulle nostre tracce quello che abbiamo cambiato location in realtà questo è un posto sperduto in iraq però sentite delle bombe già hai detto che in iraq ci hanno già scoperto il video sarà virale notizie dall iraq comunque dai vando le cianci vando ai ban ci siamo riuniti tutti qua appunto come diceva il nostro sam perché abbiamo ricevuto dei commenti da nostri cari amici e seguaci fan e ci hanno fatto notare che effettivamente il nostro canale stava diventando un po' troppo incontrato a lavori in singolo e la cosa effettivamente ci ha fatto riflettere e purtroppo non ci sono cose che ci permettono di dire che non è vero è vero che purtroppo è vero che è vero dopo più di 300 video che abbiamo ormai sul canale ne abbiamo visitati appunto per con uno per la serie in singolo 20 puntate mia magari 50 della sua di The Witcher altre 30 di quella sua sì vabbè più o meno anche il domenica il mio non su me blocco abuso ormai abbiamo superato il limite esattamente questo canale è nato con uno scopo ben preciso che sarebbe appunto quello di fare video insieme quindi diciamo che siamo persi un po' per strada esatto l'idea è venuta tutti e tre e era frutto di una passione condivisa quella che erano videogiochi e quindi che è tuttora però non spaventatevi perché non vogliamo chiudere il canale assolutamente no è il nostro sogno è il nostro hobby il nostro passatempo e quindi resterà aperto solo volevamo dirottare tutti i lavori in singolo dove su degli altri canali nostri esattamente dove ognuno si occuperà di quello che le piace di più da solo ovviamente come è giusto che sia e li abbiamo già fatti così ci possiamo anche... ma non ve li diremo non ve li diremo mai così non potrete sicuramente no ve li metteremo anche in descrizione comunque ognuno avrà il suo stile io ho già la maglietta guardate io ho già la maglietta questo è il mio avatar come avete già visto dalle nostre serie ognuno ognuno avrà il suo stile sigle con l'indie io cambierò nome esatto cambierò nome OBL che sarebbe OBL sarebbe il mio cognome parta del mio cognome al contrario esatto e niente appunto apriremo questi tre canali ognuno col proprio stile e vedremo cosa fare per intanto ci stiamo ancora impostando per questo canale principale e invece cosa terremo sul canale principale terremo i lavori di gruppo cioè le serie che faremo tutti e tre insieme i video dove compairemo comunque tutti e tre insomma il materiale dove c'è il team del volto tra l'altro avrete visto anche che la mia serie sul canale principale è un attimo ferma questo perchè è bruciando la casa esatto e ho persifitto i giochi no non ho più serie di giochi da presentare per intanto quindi ne sto acquistando di nuovi mi sto informando su altri e così quindi per un po' rimarrà ferma nel frattempo sto anche a postare il nuovo canale quindi altro tempo perso per quella serie lì quindi per intanto resterà ferma ma continuerà beh ovviamente invece per quello che riguarda le mie continueranno sul mio canale perchè appunto lo apriremo apriremo i nostri appunto per questo motivo qui per inserirci i video e il single quindi quando avrò un attimo di tempo perchè adesso tra impegni universitari e tutto ragazzi il tempo è poco perchè fare i video non è una cosa che oh 5 minuti e c'è il materiale pronto bisogna innanzitutto avere il materiale quindi giocare bisogna avere tempo per farci tutto quello che ci sta dietro che è tanto da quanto basta sembrare banale di conseguenza c'è un bel po' di muore di lavoro da fare insomma anche altri impegni è normale che a volte configano e quindi si debba prendere un po' non abbiamo tempo, non è tempo, tagliamo corto questo è il succo del discorso esattamente quindi questo era più che altro un video per chiarirvi questo concetto che appunto siamo fermi da un po' proprio questa ragione è qua quindi non vi preoccupate fra un po' ripartiremo con le programmazioni che avevamo in mente di fare saranno delle sorprese perchè li vedrete collaborazioni in destra e manca stai sopra e sotto esatto anche la nuova serie la nuova serie in tre sarà un mistero anche quello perchè dobbiamo ancora dirigerci bene nella nostra via comunque stiamo ancora decidendo su quale percorso andare esattamente comunque vivremo alla giornata vivremo alla giornata dai questo era tutto questo era veramente tutto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale iscrivetevi ai tre canali che troverete in descrizione in descrizione qui sotto e soprattutto continuate a seguirci e cliccate il like che trovate qui che male non fa che male non fa e non vi rubiamo soldi magari commentate che vogliamo magari ci proviamo ma non ha detto che ti vengono ragazzi alla prossima alla prossima bye bye ragazzi ciao